Sabato sera al Pala Matteotti contro Montale inizia la stagione della Fides Web Corner Montevarchi in C-Gold dopo la vittoria ai playoff dello scorso anno. La squadra è stata presentata nella cornice dell'hotel Valdarno, la dirigenza e lo staff tecnico hanno tenuto però un profilo basso sul ruolo giallo-verde con il primo obiettivo, la salvezza in questa categoria. Per me sarebbe importantissimo una salvezza per stagione, però come dico sempre, e questi ragazzi sono stati una cosa incredibile l'anno scorso, non lasciamo nulla in mezzo, vediamo dove si può arrivare. Il salto è bello grosso? Il salto è bello grosso, io credo sempre però che noi abbiamo una squadra giovanissima e quindi ha sempre tanti margini di miglioramento. Vediamo, ripeto, una salvezza sarebbe il nostro campionato, però ripeto, siccome anche l'anno scorso parlavamo di queste cose e poi alla fine i ragazzi ci hanno regalato questa grossa soddisfazione. Sicuramente dalla C-Silver alla C-Gold, lo scalino, l'esperienza, soprattutto con un gruppo che era già in fase di rosaggio in C-Silver, si è ritrovato nuovamente a fare la matricola in C-Gold. Quindi di conseguenza, anche da un punto di vista psicologico, certi ritmi, certe dinamiche che in categorie inferiori non si trovano, quest'anno le troveremo tutte. Si troveranno squadre che faranno tattica esasperata, con giocatori esperti, dove il giorno dopo sappiamo tutto di tutti. Quindi non ci possiamo nascondere dietro a tante illusioni. Dobbiamo lavorare, portare il più possibile a casa ogni allenamento in maniera che sia costruttivo e non per perdere un'ora o per smaltire qualche chilo. e soprattutto mantenere la testa ben collegata e determinata su qual è l'obiettivo giorno per giorno, settimana per settimana, fino a pensare alla lunga fine del campionato.